Buongiorno a tutti ragazzi dei Super Pla Pla Oggi vi voglio fare un video particolare Vi voglio far sentire i cacchia da lato I segreti della gente Ragazzi non partiamo timo Allora Ragazzi Donna di 19 anni A 15 anni Ho scoperto che mio fratello Mi riprendeva con una telecamera nascosta Mentre mi facevo la doccia E poi vendeva i video ai suoi amici Continuo a farlo Ma so dove tieni i soldi Caricavo con quei video E mi cicombro l'erba Fammi capire Cioè tu Tu fai sempre Cioè tu tutti i giorni Ti fai la doccia Tutti i giorni Ti fai su video O video Cioè mi fai una porna Lui non sa niente Mi sento un'attrice porno E ci mancherebbe Poi più sono sensuale Più soldi Ricava E se giustamente i clienti Sono esigenti Tu Cioè tutto fino ad 8 o i urno Quello che faccio 7 video A 7 moni I voci a ven Cos'è dell'altro mondo Donna di 21 anni Ogni volta che combio gli anni Non riesco mai ad addormentarmi Perché aspetto che arrivi il gufo Con la lettera da Hogwarts Ogni anno mi ripeto Che questa volta arriverà Dove vi trovano la lettera da Hogwarts A chi sa dice il reporter Viene che ti fai zinchiana Sapopasta Giavrta Uomo di 23 anni Quando sono in treno E viaggio verso l'università Trovo sempre qualcuno Che legge qualche libro Vicino a me Allora Vado su internet Con il cellulare Cerco il finale E inscenando una telefonata falsa Racconto il finale Facendo attenzione A farmi sentire E' bello questo Però non si fai C'è perché Cirovini Fino a questo Ha cattato lì Ma grappa Pagata per 18 euro Tu puoi picchiare Ti metti là Come in un cacchio Fai fai E insomma Non si fai C'è una cosa E' come Se vi ho ucciso Ma ucciso Ma l'hai già visto Dice a quella Che l'hai già visto Allora si c'è E ci racconta Fino a quella Fia Se qui Ha pagato i biglietti Insomma Quella ha cattato lì E' bello Donna di 18 anni Ho scoperto Grazie a questo sito Cioè questo qua Che il mio ragazzo Mi tradisce La prossima volta Metti meno dettagli Coglione Beh giustamente Si professo Però Cioè Si popshè Uomo di 43 anni Scorreggio in aula E poi sgrido I miei alunni Cioè Allora Tu ci scoprò E non è giusto Però Cioè Chi prima la fai Prima la fai Prima l'entra Tu prima la fai E poi ti ha col palato E no E non si fai Si E' una cosa ingiusta L'uomo di 18 anni E' da due anni Mia nonna Mia nonna continua a tenere il bagno occupato Io devo cacare Aiuto E che chi ti ha bacione Se bittà a posto E che chi ti ha bacione Che cacchino Che cacchino Che cacchino fa Oh Che cacchino Insomma Non è per cacchino Non è che tu Qui sta Così Sfuna po' Sfuna po' Uomo di 19 anni Ieri sera Ho fatto il bagno nudo Assieme ad un mio amico E nulla Ora rimbianco Solo di non averci provato Avevamo il durello entrambi Allora Si cai Si cai Io sotto Ce dicevo Come niente Vuoi vedere il bastone Il bastone di Hogwarts Donna di 20 anni Andiamo avanti ragazzi Il mio ex Mi ha invitato Mi ha inviato Delle foto In cui si faceva fare Un Insomma Dalla sua nuova ragazza Le ho inviate A sua madre Hai fatto A buono Vaffa Ma così Quando sarà Dio Hai fatto Questo Cornuto Hai tradito Insomma La tua fidanzata È fatta buona È fatta buona Stica senza fan Stica senza fan Beh ragazzi Ci vediamo La prossima volta Sempre con i racconti Dei segreti Ciao Ciao